Qual è l'impatto del cambiamento climatico sulle acque svizzere? Cosa significano questi cambiamenti nell'ambito della protezione delle acque? E quali effetti al cambiamento climatico nelle diverse stagioni? Un cordiale benvenuto a questa manifestazione. La manifestazione finale della Idrero 2021. Grazie di darci la vostra attenzione. 700 persone si sono annunciate e scritte. È veramente un successo incredibile. La manifestazione avviene in tre lingue, in streaming in tedesco, francese e italiano. Venuti a tutti e a tutti che ascoltano la lingua francese e naturalmente anche a tutti che ci ascoltano in lingua italiana. Mi chiamo Marina Villa, vi accompagnerò durante questa giornata e sono molto lieta di essere qui con tutti voi. Vediamo un po' il programma della giornata. Due parti. Questa mattina vi parleremo di risultati e prodotti, nuovi scenari idrologici e oggi pomeriggio discuteremo con voi e con gli esperti di probabili e possibili cambiamenti a livello di acque, però in dettaglio in base alle regioni della Svizzera. Vi ho detto prima, la manifestazione di oggi è l'ultima di una serie del progetto IDROCH 2018 e questa manifestazione si tiene nell'ambito del forum NCS. E ora per il saluto ufficiale passo la parola a Karine Siegfried, che è responsabile dell'UFAM. Buongiorno a tutti a nome dell'Ufficio federale dell'Ambiente UFAM. Bienvenuti a voi che siete in casa, in ufficio, davanti ai vostri computer, ma benvenuti anche a tutti coloro che sono presenti qui oggi e che faranno delle presentazioni, e al collega Peter Bint di Meteo Svizzera e al direttore dell'NCCS. Benvenuti a questa manifestazione. Il nostro progetto ha esaminato qual è l'impatto del cambiamento climatico sulle acque e sulla gestione delle acque. La risorsa acqua, lo sappiamo tutti, è un elemento vitale, senza non possiamo vivere. E per la Svizzera è ancora più importante, perché il nostro paese ha molti fiumi, laghi, grandi risorse di acque sotterranee, glaciali e anche montagne coperte di neve. Quindi acqua ovunque. La Svizzera è uno dei paesi più ricchi di acqua, non si parla non a caso del castello acquifero dell'Europa. Ma è anche un paese che è estremamente sfruttato e questo vale anche per i corsi d'acqua che vengono sfruttati. Noi preleviamo acqua, vi mettiamo delle sostanze inquinanti, continuiamo a costruire e creiamo delle centrali idroelettriche. E poi a tutto questo si aggiunge anche il cambiamento climatico. Il Consiglio federale ha dato il mandato di vedere qual è questa situazione, qual è l'impatto del cambiamento climatico sulle acque. Quindi questo progetto IDROCH 2018 è stato diretto dall'UFAM perché il monitoraggio e la protezione delle acque è uno dei compiti centrali dell'UFAM. Il progetto rientra nel NCCS, la piattaforma nazionale per i servizi climatici e il collega Peter Binder ci dirà qualcosa di più a riguardo. Il progetto esamina come la gestione dell'acqua e i corsi d'acqua cambiano in seguito all'impatto climatico. E vedremo anche quali sono gli effetti a lungo termine. I cambiamenti, possiamo dire, sono significativi se non prendiamo delle misure di protezione climatica. Ed è per questo che dobbiamo proteggere il clima e ridurre le emissioni di gas effetto serra. La protezione del clima è determinante per la protezione delle nostre acque. E' meglio prevenire, lo sapete tutti, la protezione del clima significa quindi anche protezione delle acque. Per adeguarsi a questi cambiamenti ci vogliono dei provvedimenti. E quindi questi monitoraggi sono importanti per molti settori, per l'approvvigionamento dell'acqua, per l'agricoltura, per l'energia, la protezione delle acque e la prevenzione di effetti estremi. Questo know-how è determinante perché questo ci permetterà di utilizzare anche in futuro l'acqua. E perché sapremo così come è meglio proteggere i nostri corsi d'acqua, le nostre risorse di acqua, per mantenere gli ecosistemi, per la salute degli esseri umani e anche per l'economia. Oggi verranno presentati i risultati di questo progetto e verranno anche discursi. Sarà una giornata appassionante e sono molto lieta di parteciparvi. Un grazie fin d'ora a tutti i partecipanti, a tutte le persone coinvolte, anche a tutti i collaboratori dell'UFA, ma anche negli altri uffici federali che hanno partecipato a questo progetto. Ora passo la parola a Peter Binder, direttore di Meteo Svizzera, un caro collega e presidente della conferenza dei dirittori NCCS. Grazie mille. Anche per me è un piacere partecipare a questa manifestazione, le Acque Svizzera a fronte del cambiamento climatico. Il forum NCCS e il symposium di adeguamento al cambiamento climatico hanno aggregato le loro forze. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'elaborazione di queste basi scientifiche così importanti e a tutte le organizzatrici e gli organizzatori di questa manifestazione, soprattutto naturalmente l'UFAM che ha patrocinato praticamente questa manifestazione. L'NCCS è il network della federazione per i servizi climatici. Noi siamo un organo di coordinamento e di innovazione e un crocevia dell'informazione. Noi creiamo nuovi servizi climatici, noi promuoviamo il dialogo fra i produttori e gli utenti, produrre e comunicare, quindi informazioni su misura. Il tema clima è prioritario nell'agenda politica. Noi dell'NCCS con le nostre basi decisionali creiamo per le autorità, per l'economia, per le imprese, per la popolazione una base per poter rispondere in modo resiliente a tutte queste sfide. Questa rete vive dei suoi membri e dei partner e della loro expertise, permette loro di elaborare nuovi servizi climatici nello sviluppo degli scenari climatici. hanno collaborato a Meteo a Svizzera, l'ETH a Zurigo e l'Università di Berna per analizzare le precipitazioni e il loro impatto sulla pianificazione ed intervento dell'Ufficio per la protezione della popolazione. e per l'IDRO CH 2018 è l'UFAM a dirigere i lavori. Con 15 gruppi di ricerca si è lavorato, si è fatto uno sforzo enorme e che deve essere ringraziato. Il tutto si basa su scenari climatici che creano il prossimo legame nella catena di creazione del valore climatico. Quindi i risultati di questi scenari climatici sono alla base dei calcoli anche degli scenari idrologici per poter gestire l'acqua del futuro perché è determinante per tutti i nostri settori di vita. Gli scenari climatici e quelli idrologici sono essenziali per altri servizi regionali e settoriali. Tutto questo ci permetterà di adeguarci in modo più mirato al cambiamento climatico e effettuare una protezione climatica efficace ed efficiente. Chiaramente ci sono dei settori specifici. L'NCCS lancerà anche un programma trans settoriale per la ricerca sul cambiamento climatico e questo programma sarà complementare agli altri accenti settoriali e sarà un ulteriore contributo a superare la compartimentazione mentale che noi attuiamo anche nell'ambito della politica sul clima. Veniamo al secondo lucido. La Svizzera diventa più calda e più asciutta. La neve diminuisce e le precipitazioni spesso sono molto più forti. Come si può fare una protezione climatica efficace? A causa del Covid nel 2020 abbiamo avuto un'emissione più bassa di gas effetto serra, però dobbiamo influenzare noi stessi l'ulteriore procedere. Come ha detto la collega Karin Siegward, la protezione climatica significa protezione dell'acqua. Scenari climatici e scenari idrologici sono strettamente legati. Che cosa significa per i nostri corsi d'acqua, per la nostra gestione dell'acqua? Oggi dedichiamo questa manifestazione proprio alla risposta a questi interrogativi. Spero che la giornata sarà fonte di ispirazione per voi tutti. Grazie, grazie Peter Binder. Qualche minuto fa ho detto che vogliamo dialogare nei limiti del possibile con voi in questo setting virtuale. Quindi che cosa abbiamo pensato? Ci sono diverse possibilità. Innanzitutto, non so se abbiamo un lucido sul chat. No, non ce l'abbiamo. Allora vi spiego brevemente la funzione di chat che conoscete tutti ormai e vorremmo invitarvi per ogni relazione di inviarci le vostre domande in tedesco, francese e italiano. Noi, dopo due o tre relazioni, i relatori saranno qui davanti e risponderanno le vostre domande nel limite del possibile. La seconda parte, cioè quello che non riusciremo a fare, lo faremo per iscritto. Conoscete, immagino, la funzione di chat. Se doveste avere un problema tecnico, inviateci una mail a proclima.scnat.ch. La seconda variante, quel che vedete qui, è il Mentimeter. Vi faremo una domanda prima di ogni relazione, vi pregheremo di essere un po' così attivi e cercare di partecipare a questo sondaggio. Il modo più semplice per rispondere è scannerizzare il codice QR, quindi se siete a casa o in ufficio e se avete il vostro smartphone, scannerizzate il codice e arrivate subito sul Mentimeter. Come alternativa potete digitare www.menti.com e mettere il codice, eccetera. Anche qui, in caso di problemi tecnici, annotate l'indirizzo di mail e i colleghi saranno a vostra disposizione per aiutarvi. Ora spero che siate prontissimi a partecipare e sono molto lieta di procedere in questo programma e vorremmo mostrarvi subito un video che vi dà uno scorcio della tematica HydroCH 2018. e poi Petra Schmocker ci darà un'introduzione, ma prima via al film. Quali effetti ha il cambiamento?